Bluetooth ha cambiato il suo partner bancario da Clear Junction a Modulor per offrire ai clienti una gamma più affidabile e ampia di funzioni simili a quelle bancarie. Noi utenti riceveremo nuovi dettagli del conto corrente, per cui o un nuovo conto ok oppure un ibon europeo, tramite email, notifiche e messaggi in app. I nuovi account verranno segnati in lotti per garantire una transizione fluida. Non è necessario fare nulla, i dettagli del vecchio conto diventeranno inutilizzabili, quindi ricordatevi di sostituirli con i nuovi dettagli. I vantaggi di questo cambio includono l'accesso immediato a ricevere e inviare pagamenti da e verso terzi. Altre funzionalità che invece verranno aggiunte in seguito riguardano adebiti diretti, pagamenti ricorrenti tramite open banking, conti aziendali, carte metalliche, carte virtuali e l'integrazione con Apple Pay e Google Pay. La migrazione dei clienti esistenti sta avvenendo in questi giorni, per cui prestate attenzione.